E' stato rinviato a giudizio Michele Aportone, settantenne di Sandonaci, l'uomo accusato di aver ucciso Silvano Nestola, il carabiniere in congedo, assassinato la sera del 3 maggio 2021 alla periferia di Copertino davanti al figlio col quale si era recato a cena a casa della sorella. Così ha stabilito il giudice per udienza preliminare Marcello Rizzo. Secondo il quadro accusatorio l'omicidio sarebbe scaturito poiché Aportone non accettava la relazione tra sua figlia e l'uomo, l'ex carabiniere, che era separato dalla moglie. Una storia d'amore osteggiata fortemente dai genitori di lei, motivo per il quale il settantenne avrebbe assassinato Nestola. L'accusa è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili e detenzione illegale di arma da fuoco. Il processo a Michele Aportone si aprirà il 15 ottobre davanti ai giudici della Corte d'Assise nell'inchiesta inizialmente. Compariva anche la moglie del settantenne, Rossella Manieri, ma la sua posizione è stata successivamente archiviata.